Sono amariggiati i residenti di Ostia Antica. Gli interventi per rendere il ponte pedonale della stazione finalmente accessibile con la costruzione di due ascensori procedono troppo lentamente. I lavori sono stati inaugurati il 30 maggio, ma i residenti sostengono di aver visto gli operai al lavoro per massimo 20 giorni. Al momento il cantiere è fermo e dato che sono state scavate delle grosse buche sull'asfalto, in questi giorni di pioggia è anche soggetto ad allagamenti. Soprattutto nei periodi delle prime piogge di settembre si è allagato questo cantiere. In più si vede anche la presenza di un certo abbandono, quindi le buche che sono state scavate si sono riempite di rifiuti. È stato chiesto in consiglio municipale una risposta alla direzione tecnica del decimo municipio. Una lettera al presidente Falconi e la direzione tecnica ha risposto con l'ingegnere che è responsabile di quell'area. E ci hanno detto che i lavori, quantomeno per la chiusura del cantiere, quindi le recinzioni che dovevano essere fatte sui due lati di via della stazione vecchia, dovevano essere chiusi entro l'11 settembre. Questo oggettivamente c'è perché dietro alle spalle mie c'è un cantiere. Resta da capire però quali sono i lavori che sono stati effettuati negli ultimi 60 giorni, quali opere sono state effettuate dal 31 maggio, ovvero il giorno dell'inizio dei lavori a oggi, cosa manca ancora all'interno di questo cantiere, quindi quali sono il cronoprogramma delle prossime opere che verranno inserite e poi quello che è stato chiesto è a quanto ammonta la spesa di tutto questo progetto. Siamo venuti spesso con i ragazzi a vedere e monitorare la situazione. Praticamente abbiamo trovato tutti i giorni il cantiere vuoto. Noi abbiamo fatto un calcolo che da maggio fino a settembre si hanno lavorato 20 giorni e tanto. Ultimamente è piovuto e si sono legate le piscine. Secondo le previsioni che hanno fatto loro dicembre 2024 secondo me non si farà mai. Poi hanno spostato a marzo 2025 ma vista la situazione avremo un cantiere che forse dopo il giubileo sarà pronto. Inizia la settimana europea della mobilità sostenibile, quindi anche in municipio abbiamo elaborato degli eventi importanti in relazione alla mobilità sostenibile di questo territorio e quindi con molto mal in cuore vedo che questo cantiere ad oggi è abbandonato a se stesso.